Ehi, ciao. Tu devi per forza lasciarmi postare queste foto, perché potrebbe vederle chissai tu, capisci? Però, senti, noi non amiamo i rischi inutili qui, no. Quindi bilanciare l'auto per gestire quella potenza è il passo numero due, ok? Ok. Lo sai che Nakai-san una volta era un pilota di strada come noi e adesso gira il mondo creando auto per clientele esigenti? È vero. Sono fantastica, modestamente. Torna ai tuoi suoni primordiali, Manu. Guarda qui, ho postato una foto delle nostre auto. Stupenda. Già. Uh, stupenda, sì. Ora aspetterà tutta la notte il mi piace di tu sai chi. Eh, non sono affari tuoi. Comunque passi troppo tempo sotto quel cofano. Dobbiamo farti ritornare in strada, a correre. Certo. Ci vediamo più tardi, ok? Pace. Ti ricordi la sfida di cui ti parlavo? È di degli Eastsiders. Stanno selezionando i piloti migliori, ma la tua rep non è all'altezza. Quindi, fai in modo che il tuo nome appaia nella lista dei prescelti. Non mi interessa come fai, ok? Alla prossima. Non mi interessa come fai, ok? Non mi interessa come fai, ok? Non mi interessa come fai, ok? No mi interessa come fai, ok? Alla prossima. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti